Salve, io sono Simona Gabrielli, sono una dipendente di ATAC e sono RSU della Ferrovia regionale Roma-Viterbo e della Roma-Giardinetti. Come lavoratrice di ATAC volevo solo ricordare che noi da anni, con il susseguirsi di vari piani industriali, abbiamo contribuito. A un'opera di risanamento dell'azienda, con un obiettivo generale che era quello di salvare questa azienda. E invece poi questi sacrifici che hanno riguardato una riduzione dei nostri diritti, anche dei nostri salari, a dispetto di quello che dice la RAGI sull'invarianza salariale, e questi sacrifici sono stati invece vanificati da una classe dirigente, e qui il discorso dei dirigenti piuttosto che della forma dell'azienda, una classe dirigente che invece non è stata adeguata al compito che aveva. E infatti, ecco qui che ci ha portato poi a una procedura che è comunque fallimentare, che è quella del concordato preventivo, che come via d'uscita non c'è alternativa in questo caso, è perché ormai noi ci sentiamo ripetere sempre più spesso che l'unica alternativa è il fallimento. e quindi tutte le scelte diventano obbligate, e quindi per noi diventa un passo obbligato il dover sottostare anche alle decisioni dell'Ada. Io poi faccio parte di una ferrovia regionale che nel maggio 2019 vede la fine del contratto di servizio, e quindi noi, come lavoratori delle ferrovie concesse, non ci chiediamo che cosa succederà quando ci sarà la gara europea, e temiamo di dover partecipare di nuovo al risanamento, o comunque che ci verranno chiesti ulteriori sacrifici, quando noi già li abbiamo fatti per salvare una società che però dovrebbe non essere più la nostra. Quindi vorremmo evitare che sulla nostra pelle, insomma, magari pagare due volte queste incertezze anche politiche, e vorremmo che appunto il nuovo gestore ci veda riconosciuto la strada che abbiamo fatto fino ad ora. Questo perché? Perché io dico che abbiamo bisogno di una politica di trasporti che abbia una visione un po' a lungo raggio, invece purtroppo ci troviamo di fronte a una gestione delle emergenze che alla fine diventa inefficiente, diventa inefficace e dannosa per noi lavoratori e anche per l'utenza, perché io dico che una politica deve ascoltare i lavoratori e deve ascoltare anche i vari comitati dei pendolari, e noi ci troviamo sullo stesso piano, però purtroppo spesso succede a me, che sono una lavoratrice front line, che vedo che il comitato ci vede a noi come il nemico da combattere, interlocutore però è avversario, invece anche noi vogliamo un trasporto pubblico che funzioni, e quindi dovremmo lottare insieme, insomma. Simona Gabrielli, sono la RSU della Roma Viterbo e della Roma Giardinetti, di macchinisti, operai e operatori di stazione, che è la mia categoria. Grazie.